Musica I telefonini facial Vabbè ok va a vedere quello ce l'hai tu in mano classici telefonini giapponesi piatti, lunghi tutto schermo sono quelli che vanno di più in Giappone infatti mi hanno detto Marco quando erano la erano tutti così una X10 qui abbiamo anche l'X10 bellissima che stai lì la macchina fotografica la macchina fotografica 12,1 una faccia che stai la macchina fotografica che stai la macchina fotografica che stai la macchina fotografica la macchina fotografica la macchina fotografica che stai la macchina fotografica